Sono Alberto Iba e sono il direttore della NN Edizioni, siamo nati nel 2015, quindi siamo piuttosto giovani, ci occupiamo di letteratura, ci chiamiamo NN perché il nome è Nesho, cioè sarebbero i figli di NN, figli di nessuno e infatti più o meno ci occupiamo di identità nel contemporaneo. Non facciamo con l'anima, facciamo serie, la serie più importante che abbiamo pubblicato è la trilogia di Holt di Kent Aruf che con le nostre anime di notte è stato in classifica per 35 settimane ed è il nostro autore di riferimento. Continuiamo sempre a fare ricerca sulle serie insieme ad altri autori come Tom Drury o Brian Panovic, il prossimo anno aumenteremo un po' i titoli, da 12-13 di questi primi due anni passeremo a 20, apriremo a una nuova serie diretta da Zaccuri con autori importanti italiani come Laura Pariani, Tarabbia, Lajanecek, Marcello Fois, insomma una serie di altri autori importanti e daremo i Natali in Italia a un'autrice che è Jasmine Ward che ha vinto due National Book Award in America e che cercheremo di portarla in Italia intorno a maggio. È Le nostre anime di notte di Kent Aruf il libro che è stato un po' il best seller e la rivelazione di quest'anno. I progetti per il futuro sono questi, abbiamo in mente di aumentare la nostra produzione, sempre con un occhio alla letteratura americana, però dando spazio non solo anche agli scrittori italiani ma anche a due esordienti ad esempio, molto bravi, uno è Camurri e l'altro è Forgione, uno uscirà all'inizio dell'anno e l'altro chiuderà invece l'anno intorno a ottobre-novembre.